calignaia acqua fresca mare calmo tanto sole tanta gente splendida giornata di mare in lontananza il castello del sonnino se mi riesce ora faccio un po di zoom gran bel posto il sonnino era uno che sicuramente ci apiva e ci apiva tanto si ha fatto il castello lì un posto così lo trovate lungo la costa labronica oppure andate in sardegna o in corsica un saluto la spiaggia incomincia essere bella piana giorno festivo acqua fresca mare pulito tanta gente tanto sole bel panorama per tutti quelli che restano al mare tutto il giorno il consiglio di mangiare poco o comunque far passare sempre almeno due ore e mezzo meglio tre tra il pasto e il bagno se no ci potete anche schiattare e poi vi rovinate la giornata saluto rapido promemoria la mattina presto e sino alle 13 ora solare alias le 14 ci sono gli ultravioletti dalle 13 alle 17 ora solare ossia dalle 14 alle 18 ci sono gli inferrossi dopo le 17 ora solare ossia dopo le 18 ora legale tornano gli ultravioletti acqua bella fresca pulita il sole picchia forte ci vuole la crema almeno 20 di protezione meglio 30 o più per il resto gran bella giornata di sole e di mare l'acqua non è ammarmata come era invece l'altro anno negli stessi tempi stesso periodo un saluto a tutti i poveri cristi che non stanno in una città di mare ciao ciao benvenuti in un'altra puntata di mia calignaia estate 20 20 speciale fondale di calignaia questa puntata ci butteremo direttamente dalla baia di calignaia sul fianco sinistro nuoteremo virtualmente insieme nella baia di calignaia è una piscina perfetta all'interno della baia da sponda a sponda sono circa 50 metri se fate 10 vasche di fila avrete fatto 500 metri di nuoto se ne fate 20 di vasche avrete fatto un chilometro di nuoto e così via io vi consiglio di indossare una muta shorty che tiene caldo protegge dalle meduse e permette di restare comodamente in acqua anche due o tre ore di fila restando al cadduccio e ben sempre protetti e comodi un saluto a tutti ciao alla prossima ciao 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 io là la spiaggia più vuota l'acqua un pochino più calda di iari mare calmo tanto sole bel panorama posto veramente fantastico Ora salgo le scale, vado al barrio, al take away e mi piglio una porzione di spaghetti allo scoglio, che danno in vendita, prezzo modico, pasta asciutta esagerata, porzioni abbondanti, io ve la consiglio, mentre voi meditate se comprarla o non comprarla, io vado su, me la ompro e me la sbafo, un saluto. Grazie